Grazie a tutti coloro che hanno organizzato questo climate camp, non era scontato e io credo che il climate strike del 25 di settembre sarà un momento decisivo, quindi come attivista per la giustizia climatica sono veramente riconoscente perché c'era bisogno di questo momento di confronto e di farlo prima di quel passaggio che sarà fondamentale e spero alla fine dell'intervento di poter dire perché credo che sarà fondamentale. Mi prendo poi un secondo per ringraziare i compagni che stanno facendo la traduzione simultanea e lo dico perché cercherò di parlare molto piano quindi magari sembrerò più scemo di quanto normalmente io sembri o di quanto non sia potrebbe essere che la ragione sia dare una mano ai traduttori. Vengo al punto, secondo me i temi che poni sono effettivamente centrali e partirei per fare un'analisi che propongo poi al dibattito naturalmente, da un punto che è stato sottolineato da parecchie persone che hanno provato ad analizzare la pandemia, cioè che la pandemia da un lato accelera dinamiche di diseguaglianza e contraddizioni già esistenti nel capitalismo neoliberale e dall'altro lato però mette anche in campo una dinamica nuova e inedita. Secondo me è ragionevole come impostazione e se cerchiamo di utilizzare questa lente per leggere la questione del ricatto occupazionale che già Stefania evocava ma che in parte veniva anche nel ragionamento di Alice quando si parlava di ripensare al lavoro e si parlava anche di ripensarlo in modo tale che questo conflitto tra salute e impiego venisse superato. Ora, dire che la pandemia ha prodotto il conflitto salute e lavoro sarebbe un errore enorme, tu facevi riferimento a Taranto, a me è capitato di andare a parlare con militanti in quella città ed effettivamente andare a dire a qualcuno sai, finalmente ora hai visto che c'è il conflitto capitale lavoro salute, giustamente questi non ti prendono sul serio perché per loro è quotidianità da tantissimi anni. È però vero allo stesso tempo che la pandemia ha generalizzato quella che era stata una dinamica, diciamo così, spinta verso le zone di sacrificio nel processo economico normale. Per una Taranto c'erano anche fabbriche tra virgolette pulite e se noi guardiamo alla situazione del settore dell'acciaio da una prospettiva regionale e quindi europea che comunque è l'ente giusta, per una Linz, per una Duisburg ci vuole una Taranto. Cioè come dire, il settore europeo si basa sul fatto che ci siano alcuni impianti che devono essere strizzati e quindi in qualche modo il cui valore emerge dalla leggerezza, inconsistenza delle protezioni ambientali affinché altri possano invece brillare dal punto di vista della supposta risoluzione del conflitto capitale salute. Questa generalizzazione ha comportato anche nei mesi del lockdown una sorta di sospensione perché la reazione in primo luogo operaia a questa realizzazione che in primo luogo è la realizzazione di una brutalità. Quello che Sayyad chiamava funzione specchio, hanno visto la loro normalità basata su elementi brutali e inaccettabili ed effettivamente, comunque adesso poi sarebbe lungo andare a parlarne, ma le poche migliorie che sono state ottenute nel periodo del lockdown con i famosi DPCM del governo Conte sono tutte state ottenute grazie a lotte operaie all'inizio a livello regionale in Lombardia, a livello nazionale tutte le sigle confederali e non il 25 di marzo e io credo che quando andiamo a ragionare, provo a farlo in conclusione, di come si solidifica un percorso di convergenza delle lotte che unisca tutto il mondo del lavoro latamente inteso e il mondo dell'attivismo dei movimenti sociali, quindi il nostro, questo protagonismo operaio che ha immediatamente un lato di giustizia climatica vada tenuto conto, è bene tenere presente questa cosa. Quindi c'è un elemento di continuità, c'è un elemento di discontinuità. Uguale, lo stesso si può dire a livello di una comparazione storica, noi qui parliamo da Porto Marghera, che è un posto che è noto per il rifiuto, delle nocività e per le lotte contro le nocività, stamattina su Global Project è stato pubblicato un bellissimo articolo di Lorenzo Feltrin su questo tema. Ebbene, io credo che la situazione attuale vada letta in una comparazione storica con quello che effettivamente accadde. La monetizzazione del rischio nella congiuntura degli anni 60 e 70 funzionava sostanzialmente così. Rischio contro aumento salariale o esposizione al rischio, che veniva in qualche modo proposto agli operai di accettarla, in cambio di aumenti salariali o scatti di livello. Dentro però un contesto istituzionale in cui effettivamente quell'aumento salariale e quello scatto di livello si davano all'interno di una inclusione sociale, che era quella che è stata definita dagli studiosi società salariale, che effettivamente dal punto di vista della lavoratrice e del lavoratore, nel caso del petrolchimico più che altro lavoratori, garantiva inclusione sociale attraverso welfare da un lato e accesso ai consumi di massa dall'altro. Andiamo a vedere che tipo di monetizzazione del rischio offrono oggi gli industriali a lavoratrici e lavoratori. Io penso che qui sia davvero importante leggere assieme due documenti che sono usciti nei giorni scorsi. Il 28 di agosto la lettera di Carlo Bonomi a tutti i vari enti periferici di Confindustria e dall'altro un articolo di Tito Boeri su Repubblica del giorno prima. Bonomi dice quando pensiamo al rinnovo dei contratti pensiamo al rinnovo dei contratti fuori dallo scambio novecentesco o mai anacronistico tra salario e orario. In soldoni significa la base pratica, materiale su cui si costruiva la società salariale. Cioè quindi il salario come vettore di ingresso nella società da garantiti, da inclusi. Quindi basta. Nel senso, lavorate di più e verrete pagati di meno. A quel punto non si chiede la gente come ci arriva a fine mese perché noi siamo in un contesto in Italia ma in Europa di diffusione ampia di lavoro povero. Cioè ci sono un sacco di persone che lavorano ma che non arrivano a fine mese e quindi devono prendere un secondo lavoro. La giornata lavorativa media si è enormemente allungata per gli occupati. E quindi come si fa a recuperare quello che il contratto nazionale toglierebbe se l'ipotesi di Bonomi andasse in porto? E poi Eri dice beh aspetta ci mettiamo l'esposizione al rischio. Facciamo dei minimi quindi le mascherine devono averla tutta però al di sopra di questi minimi proprio basilari quei settori lavorativi in cui effettivamente c'è esposizione al rischio beh quello ci diamo un pochino di salario in più. Dal principio cioè queste sono cose che chi si è occupato di economia ambientale conosce perché dal principio chi inquina paga che sotto sotto significa se vuoi inquina basta che hai i soldi per pagarlo si passa al principio chi infetta paga. Ok? Ora non voglio la farei troppo lunga però chi ha voglia vada ad approfondire dal punto di vista accademico è uscito un articolo di Bisin e Gottardi che fa da pandà a quello che dice Boeri perché loro invece si rifanno ai mercati di emissioni di CO2 che prevedevano quello che viene definito il diritto di emettere o il diritto di inquinare e propongono di vendere alle aziende cioè l'ente pubblico lo Stato dovrebbe vendere alle aziende dei diritti di infettare diritti di infezione vengono chiamati diritti di infezione ok? Quindi il conflitto salute-lavoro è oggi tornato centralissimo però teniamo conto che lo è in situazioni molto diverse da quelle che erano negli anni 60 e 70 due considerazioni conclusive perché non voglio rubare troppo tempo noi qui siamo a un climate camp cosa ha tutto questo a che vedere con la crisi climatica? Risposta a tutto a che vedere con la crisi climatica perché in particolare la pandemia ha mostrato che i driver profondi che l'hanno portata alla luce sono i medesimi che spingono il cambiamento climatico quindi perdita di biodiversità e deforestazione anche qui non voglio farla lunga i nostri i luoghi attraverso i quali i collettivi di ecologia politica global altri network di movimento ci sono espressi hanno prodotto analisi che insomma gli approfondimenti ci sono e adesso perché se no ci vuole un quarto d'ora venti minuti per spiegarlo ma questi due driver deforestazione e perdita di biodiversità stanno alla base del cambiamento climatico e stanno pure alla base dell'aumento di probabilità di eventi epidemici e addirittura pandemici questo in una situazione in cui effettivamente dal punto di vista delle grandi aziende che producono questi due tipi di agenti propulsori è del tutto ragionevole esporsi al rischio di un'epidemia o di una pandemia perché laddove ci siano dei guadagni essi sono interamente internalizzati laddove ci siano delle perdite o dei rischi concretizzati i costi vengono interamente esternalizzati chi ha pagato il costo i servizi sanitari nazionali dove ci sono oppure nessuno ma quindi la gente che è morta la gente che è stata male quindi la società e l'ambiente pagano i costi e però non ricevono nessun beneficio di conseguenza chiunque si opponga a questo modello fa del gran bene al clima inoltre se passiamo dalle cause della pandemia agli effetti della pandemia quindi alla diffusione il discorso non cambia di una virgola perché la diffusione rapidissima di del virus è dovuta all'allungamento spasmodico delle catene del valore che sono uno dei due pilastri concettuali dal punto di vista economico del neoliberalismo l'altro qual è? l'altro è il just in time ha avuto un effetto il just in time? certo che l'ha avuto perché le società i sistemi economici sono stati assolutamente impreparati e fragili a fronteggiare una pandemia perché evidentemente il just in time ti dice tu devi avere in magazzino solo quello che il mercato può richiedere il giorno dopo il mercato ovviamente non ha nessun interesse a prendere una pandemia come qualcosa che può accadere perché lo vale il pubblico per l'appunto e quindi i respiratori non c'erano le mascherine non c'erano eccetera eccetera questo per dire che il modello neoliberale il capitalismo uccide veramente uccide dal punto di vista climatico uccide dal punto di vista pandemico ultima cosa che dico sempre per quanto riguarda gli effetti chi è che è stato più colpito dal contagio si diceva che la questione delle diseguaglianze lo diceva Annalice lo diceva Antonio Pio è stata esacerbata ok ed è ovviamente vero ma c'è anche una dimensione immediatamente di classe cioè noi oggi possiamo dire senza tema di smentita che chi guarda i migranti come vettori di contagio è un maledetto ed è un negazionista tra le altre cose anche climatico mentre invece è verissimo che le mappe del contagio si sovrappongono alle mappe dello sfruttamento e questo lo si vede nei settori della logistica nel settore della lavorazione delle carni ma anche dove uno meno se lo aspetterebbe perché è tutta la questione del billionaire e del turismo di lusso in Sardegna se uno poi va a vedere i numeri chi è entrato in terapia intensiva chi è stato contagiato chi è sofferto di più per il 95% non per il 3% sono lavoratori stagionali che essendo sottoposti a turni massacranti non avendo i dispositivi di protezione individuale ed avendo pochissime garanzie quindi nessuna possibilità di fare il tampone prima e di tutelarsi hanno effettivamente contratto questo maledetto virus quindi per questo la conflittualità operaia la conflittualità sociale e la conflittualità climatica mi pare che siano in una condizione di oggettiva convergenza e secondo me è bene che in questi momenti ne discutiamo perché se si solidificasse se diventasse questa convergenza io credo l'efficacia dell'azione nei movimenti per la giustizia climatica ne risulterebbe maggiorata e migliore vi ringrazio per la giustizia climatica per la giustizia climatica Grazie.